Occorre creare un nuovo umanesimo del lavoro dove l'uomo e non il profitto sia al centro e dove l'economia serva l'uomo e non si serva dell'uomo perché i giovani senza lavoro sono i nuovi esclusi del nostro tempo. Lo ha ricordato Papa Francesco agli oltre 7.000 aderenti al movimento cristiano lavoratori incontrati in aula Paolo VI ai quali ha suggerito tre parole educazione, condivisione e testimonianza. Educare ha spiegato aiuta a non cedere agli inganni di chi suggerisce le scorciatoie dei favoritismi e delle raccomandazioni. Le tentazioni sono compravendite morali indegne dell'uomo e vanno respinte per non far crescere la mentalità dell'illegalità che porta alla corruzione della persona e della società. E testimoniare ha concluso il Papa significa trasmettere speranza e sostenere con l'aiuto concreto chi è senza lavoro come i tanti giovani disoccupati che sono i nuovi esclusi del nostro tempo. Ma pensate che in alcuni paesi dell'Europa, di questa nostra Europa tanto colta, la giuventù da 25 anni in giù, arriva al 40% di disoccupazione, 47% in altro paese, 50% in nord. Ma cosa fa un giovane che non lavora? Dove finisce? Nelle dipendenze? Nelle malattie psicologiche? Nei suicidi? Che non sempre si pubblicano le statistiche dei suicidi giovanili. Questo è un dramma. È il dramma dei nuovi esclusi del nostro tempo. Non più. Dice una stessa eposahn... Grazie a tutti.